La situazione idrica in provincia di Sondrio è grave, i bacini sono al minimo e tanti torrenti sono vicini alla secca. Le conseguenze sono le necessarie limitazioni al consumo domestico, problemi per le produzioni agricole e ora anche la sofferenza della fauna ittica. Per questo stanno intervenendo i volontari dell'Unione Pesca Sportiva di Sondrio che insieme agli agenti di vigilanza organizzano il trasferimento delle trote dalle zone a maggiore rischio. Le condizioni attuali sono molto difficili, afferma Giorgio Lanzi dell'Unione Pesca Sportiva, diffuse a tutta la provincia di Sondrio e riferite in particolare ai torrenti che sono ai minimi a causa delle scarse precipitazioni nevose dello scorso inverno e della siccità che si protrae ormai da settimane. Sulla base dei dati che abbiamo rilevato e dalle segnalazioni dei nostri oltre 7.000 pescatori che sono vere e proprie sentinelle dei corsi d'acqua stiamo intervenendo per il trasferimento delle trote. Queste operazioni sono già state effettuate nell'alveo di diversi torrenti di Valtellina e Valchiavenna. Le trote vengono prelevate e trasferite in alcuni casi in adda o nella mera quando le distanze sono brevi oppure in altri tratti di torrenti dove la situazione è meno compromessa. Si tratta di salvaguardare il patrimonio ittico e ambientale dei nostri corsi d'acqua, prosegue l'anzi, di fronte a una situazione che è l'evidente risultato di un cambiamento climatico al quale bisogna cercare di far fronte come possibile. Il trasferimento dei pesci va in questa direzione e viene ponderato sulla base di dati scientifici con la volontà di evitare morie che altrimenti sarebbero quotidiane. Per questo siamo sempre pronti ad intervenire in questi giorni e andremo avanti finché sarà necessario, ricordando che la prima e più grave difficoltà da affrontare è quella dell'approvvigionamento d'acqua per uso umano.